e l'Ucraina si dice pronta a rinunciare all'adesione alla Nato capito? Io la notizia la leggo sul Fatto Quotidiano e tale notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video ma insomma, ma insomma, ma insomma scusatemi, scusatemi, ma allora ha sempre ragione Serafino Massoni beh, Serafino Massoni sta su Youtube dal lontano anno 2007 e su Youtube Serafino Massoni ha circa quasi 11 milioni di visualizzazioni quasi 15.000 video 15.000 abbonati iscritti allora ha sempre ragione Serafino Massoni ma perché, ma perché farla tanto drammatica perché farlo tanto drammatica l'Ucraina può restare uno stato sovrano come la Svizzera che è neutrale la Svizzera è uno stato sovrano, è neutrale e così l'Ucraina resta uno stato neutrale e resta uno stato sovrano anche se è neutrale non c'è motivo che l'Ucraina entri dentro la Nato a parte il fatto che la Nato non ha più motivo di esistere la Nato non ha più motivo di esistere dal lontano anno 1991-92 quando finì l'URSS l'URSS, Unione Repubblica Socialista Sovietica l'URSS che da un presidente americano fu definita l'impero del male non c'è più l'impero del male ma non c'è più neanche il patto di Varsavia che il patto di Varsavia era allora quando c'era la guerra fredda il patto di Varsavia era l'equivalente della Nato ma ora non c'è più l'impero del male l'URSS non c'è più il patto di Varsavia quindi che ci sta a fare la Nato quando finì l'URSS e finì il patto di Varsavia doveva finire pure la Nato così non c'erano più situazioni del genere ma io l'ho detto ormai da tanto tempo da tanto tempo l'Ucraina resta uno stato sovrano pure se non aderisce alla Nato può aderire all'Eurozona può aderire all'Eurozona ma se l'Ucraina aderisce all'Eurozona mica è obbligata ad aderire alla Nato se c'è una qualche legge che dice una qualche legge europea che dice che chi aderisce all'Eurozona deve pure aderire alla Nato beh la si cambia questa legge no la si cambia è tanto semplice ma è tanto semplice cari amici è tanto semplice ma ha ragione la Federazione Russa di Vladimir Putin quando dice che lei Federazione Russa di Vladimir Putin non è contenta che l'Ucraina entri dentro la Nato perché se l'Ucraina entra dentro la Nato gli armamenti della Nato compresi i missili possono essere dislocati in Ucraina al confine con la Federazione Russa di Vladimir Putin ma ci voleva tanto a capirle queste cose Vladimir Putin è stato costretto a fare delle dimostrazioni ha fatto delle dimostrazioni Vladimir Putin ha fatto capire ha fatto capire ma così come avvenne nel 1963 nel 63 quando l'URSS 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 di Khrushchev portò i propri missili i propri missili nell'isola di Cuba di Fidel Castro di Fidel Castro perché Fidel Castro aveva rapporti aveva rotto i rapporti con gli Stati Uniti dopo quello che era successo con Kennedy alla Baia dei Porci che Kennedy voleva rovesciare Fidel Castro ma se Kennedy non avesse voluto tentare di rovesciare Fidel Castro Fidel Castro mica si sarebbe messo con l'URSS Fidel Castro faceva il suo governo e basta ma agli americani non piaceva il nuovo governo di Fidel Castro e per cui cercarono di rovesciarlo allora Fidel Castro si schierò dalla parte dell'URSS e Khrushchev mandò i missili sovietici a Cuba e gli americani non erano contenti non erano contenti gli americani che i missili sovietici fossero lì sotto casa a Cuba e per cui Kennedy lo fece lo fece sapere a Khrushchev e Khrushchev li ritirò i missili sovietici ma è tanto semplice e così si deve fare con l'Ucraina a parte il fatto che l'Ucraina per secoli secoli e secoli ha fatto parte prima dell'impero russo e poi dell'URSS come la Crimea come la Crimea come la Crimea ha fatto parte dell'impero russo la Crimea e anche dell'URSS e quindi è tanto semplice è tanto semplice Vladimir Putin è stato costretto a fare una dimostrazione si dice a far vedere i muscoli a far vedere i muscoli a fare delle esercitazioni militari di ai confini con l'Ucraina per far capire che la federazione russa non è contenta che l'Ucraina entri dentro dentro la Nato tutti a dire eh mi si scusi mi si scusi mi si scusi anche il nostro bravo ministro degli esteri Luigi Di Maio ha detto che l'Ucraina come stato sovrano si può schierarsi con chi vuole ma ma Luigi Di Maio caro Luigi Di Maio che te voglio tanto bene te voglio Luigi Di Maio ma perché non hai detto che la Nato è un residuato fossile non c'è più motivo di esistere potevi dirlo no non c'era mica niente di male a dirlo perché queste cose le deve dire sempre Serafino Massoni le deve dire io sono vecchio Luigi Di Maio ho già compiuto 82 anni capito tu sei giovane sei pieno di energie le potevi dire tu queste cose l'Europa l'Europa non c'è più bisogno della Nato a che serve la Nato a che serve non c'è più l'impero del male e adesso leggo sul fatto quotidiano che l'Ucraina finalmente ha detto ma io Ucraina posso fare a meno di aderire alla Nato ma io queste cose le vado dicendo da tanto tempio tanto tempio ma è così semplice la situazione cari amici è così semplice così come è semplice andare in libreria e comprare una copia del Marinaio delle Antille un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich capito Luigi Di Maio capito Premier Mario Draghi e capito il presidente francese che si è andato a Mosca si è andato a Mosca presidente francese Emmanuel Macron e poi abbrate il mio puntito affatto se dire lontano 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 perché non hai voluto fare il tampone non so che cosa avevi paura che prendessero il tuo codice genetico ma andiamo Emmanuel Macron la grande la grande Emmanuel Macron caro caro Emmanuel Macron che io voglio tanto bene pure a te beh cari amici non so se mi sono spiegato nel 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 riassunto di questo video io vi metto nella sua completa interezza l'articolo che ho letto sul fatto quotidiano e il fatto quotidiano si vede che segue la web tv di Serafino Massoni eccolo qua Serafino Massoni eccolo qua eccolo qua Serafino Massoni e questa è l'ultima opera di Serafino Massoni va bene cari amici va bene il fatto quotidiano va bene Luigi Di Maio va bene Mario Draghi va bene Emmanuel Macron va bene cari amici per cui a tutti tanti cari saluti dal Marinaio delle Attille di Serafino di Serafino